Sindaco, una giornata storica per Gioio Samarea con la conclusione dei lavori del potabilizzatore. Una storia che è andata avanti da molti anni, che si è conclusa grazie all'impegno di diverse amministrazioni, ma ovviamente soprattutto con il suo vostro impegno che siete gli ultimi in ordine cronologico. Sì, oggi è una giornata storica per la comunità di San Giorgio, ma comunque per tutta Gioio Samarea, perché abbiamo inaugurato il potabilizzatore. Il potabilizzatore già è da qualche giorno attivo, in questo momento è in una fase di rodaggio, ma già si vedono i primi risultati. È un problema che era presente da tantissimo tempo in questo territorio, riuscire a realizzare il potabilizzatore ci dà grande soddisfazione. Voglio ricordare che questo era il punto principale, il progetto che assolutamente voleva realizzare il sindaco Ignazio Spanoio. Sono stato il suo assessore nel suo ultimo mandato e sapevo quanto ci teneva a quest'opera, quindi oggi la possibilità di inaugurarlo e di dare l'acqua potabile qua ai cittadini di San Giorgio. La voglio dedicare soprattutto a lui che per tantissimi anni si è impiegnato affinché si potesse realizzare questo progetto. Oggi è un momento appunto storico perché finalmente il potabilizzatore cede funzionante, si dà avvio a una nuova epoca di ripresa dello sviluppo economico e turistico di questa comunità, ma soprattutto di dare a tutti i cittadini un diritto che per troppo per tanto tempo è stato negato.